L'arrivo del fondo di investimento americano LCV Capital Management e la conseguente costruzione di una fabbrica d'auto ecologica tra il porto di Gioia Tauro e Bari, apre nuovi scenari economico-finanziari, ma non solo, visto che industria d'auto significa anche lavoro e occupazione, e la FIOM CGL del comprensorio di Gioia Tauro lo sa benissimo, e su questo fronte si è già attivata da tempo impegnandosi sulla difficile vertenza dell'ex Isotta Fraschini e la possibilità di utilizzare gli operai dell'ex Isotta nella nuova forza lavoro della fabbrica americana. Negli incontri avuti presso il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso giugno e il primo luglio alla presenza del Ministro Guidi e delle istituzioni interessate, è stato individuato nel piano industriale della LCV Capital Management il progetto che risponde in modo complessivamente più adeguato alle esigenze occupazionali e di prospettive produttive di lungo periodo, e il segretario comprensoriale della FIOM CGL Pasquale Marino ha presentemente rivendicato l'esigenza di tutelare gli ex dipendenti dell'Isotta Fraschini nel cui compendio dovrebbe collocarsi la nuova fabbrica americana, una vicenda che secondo la FIOM apre una sfida non indifferente a una nuova industria automobilistica, seppur con prospettive di commercializzazione con numeri non importanti ma capaci di garantire la sostenibilità e durabilità del progetto significa entrare in un mercato dove la competizione è esasperata, in particolare si tratta di un'auto del segmento C dove vi è più concorrenza. Aver accettato questa scommessa mette tutti sindacato e istituzioni di fronte ad un compito delicato e complesso, cioè avere risposte chiare ed efficaci, applicabili nell'interesse di tutti, in modo particolare delle lavoratrici e dei lavoratori che se si rispettano i tempi potrebbero venire incontro alle esigenze di molte famiglie. Lo strumento individuato affinché la LCV attinga a finanziamenti pubblici è quello dell'accordo di programma, il che significa che il governo in concorso con le regioni di Puglia e Galabria dovrà supportare l'investimento in tempi certi e soluzioni adeguate.